Buongiorno a tutti, mi chiamo Lidia, vengo dall'Indonesia, da Giacarta. Esattamente un anno fa mi sono trasferita a Roma. Negli scorsi otto mesi ho studiato italiano al CPA 3. Adesso sto studiando italiano al livello B1. Oggi vi presento il mio posto preferito, si chiama Gianicolo. Da qui il panorama di Roma è molto bello, guardate che bello.